allora buongiorno a tutti oggi parlo però brevemente solo di un recupero di un unico classico del genere metalcore ne parlo perché credo che questo sia l'unico disco poi in realtà che valga la pena di possedere di tutto il genere metalcore che è un genere che io ricordo personalmente era nato verso la metà degli anni 90 soprattutto nei circoli universitari di prestigiose università di Boston quindi New England quindi trattasi di ragazzi della classe media bianca però classe medio alta ecco quindi erano dei punk con i soldi cosiddetti art course con i soldi un po' figli di papà adesso non vorrei scandalizzare qualcuno ma comunque i componenti erano si differenziavano da da quelli della discord dei fugazzi non parliamo poi quelli californiani di ascendenza appunto del kennedys oppure quelli proprio più punk di you scared to squirrel bait replacements quello proprio più di natura passatemi il termine marxista proletaria ecco appunto come di estrazione proprio sociale tranquilla si potrebbe dire a Roma sì ma no questi erano leggermente insomma un po' più fighettini avevano scuole private da da centomila dollari all'anno bel college a harvard cambridge insomma ben messi anche molta scena indie di boston era abbastanza benestante tra non proprio forse a questi livelli tra giuliana etfield le black babies le monez anche poi i pixies adesso senza buttarla sulla sociologia spicciola questo era un genere che io ricordo andava soprattutto anche qui in italia tra la cosiddetta popolazione straight age degli arcores c'erano quelli che a meno qua a roma adesso forse qualcuno si scandalizzerà perché si riconoscerà erano quelli sì che ascoltavano hardcore però non conducevano una vita molto sobria almeno in teoria sulla sulla carta non bevono manco un caffè ma una birretta da un giro con le x sulle mani erano un po reazionati come ideologie non discorso di cui erano di destra ma sicuramente non erano vicino alla narcopunk o lana o il punk quello insurrezionalista o comunque sociale erano al di là delle barricate non gliene poteva fregare di me di meno loro gli interessava solo scapocciare la la testa contro il palco per puro sfogo personale non si scandalizzi qualcuno un po come fanno i zero a zero alfa quando fanno cinghia mattanza non so se ancora esistono questi gruppi di estrema destra hardcore romani di casa pound ecco gli annone quelli che facevano facendo i concerti tutti loro sepia una cinghiale tra di loro cioè praticamente essere il divertimento dei fan dei zero a zero alfa sepiavano a cazzotti a cinghiale tra di loro pensa un po come stavano messi ora non voglio di loro erano meglio chiaramente cioè forse qualche briciolo di cervello ce l'avevano però attitudine più o meno era quella era fare una specie di hardcore metal fatto male perché alla fine era suonato male per essere metal era suonato un po troppo bene per essere hardcore era nibrido un po strano in america ci riuscirono dignitosamente giusto gli orchid con il primo mini chaos is mine mi pare che si amasse poi dopo di che niente nulla di che in canzoni tutto uguali di una monotonia mai vista il solito scoprimo urlato quei soliti testi adolescenziali da adolescente sfigato depresso che dice mo me butto da la finestra ora mi raccomando che regge mi pagò la collotta dalla maglietta che si mette dal fini giù da sotto cioè nel senso non mi ammazzo ma mi ammazzo però ti ammene una mano se non mi ammazzo sul serio cioè mentre si ammazzavano mai erano quelle finte di quello finto spleen e idol però qualche fascino qualche cazzone ce l'aveva i converge sono quelli che forse hanno dato i risultati artistici più maturi anche loro di vicino boston erano di salem ed erano anche più antichi come età perché si sono formati ormai nel 90 quindi 34 anni fa e fecero dei primi dischi preparatori mi ricordo uscirono un po in sordina a qualcuno piacevano ma insomma non è che circostante granché verso invece quando firmano per la per la che erano per l'epulpe la per così male dietro sono una dell'ebullition equal vision di rai capo che era appunto uno dei fuori usciti del scenarcore che si convertì a all'area krishna quindi insomma faceva tutti sti dischi qui predicozzi a re krishna in versione rai capo non lo ricordo si che è una specie di claudio rocchi del dell'arcore di boston che erano uno sfigatone pure lui insomma poche idee molto confuse che mescolava insomma sta spiritualità zen col mega core dischi orrendi degli shelter mi pare erano gli shelter dai capo degli shelter bruttissimi vabbè comunque lui fece quest'etichetta e su quest'etichetta uscì questo classico del genere che si chiama john doe che è un concept nel 2001 uscito tra la sentenza in concomitanza qualche giorno prima dell'attacco delle torri gemelle a new york proprio è stato un caso questo è uscito il 4 novembre le torri gemelle è stato qualche giorno dopo ma questa è solo una coincidenza che ho trovato io così diciamo qui perfezionano un po la formula il disco è un po meglio suonato contiene 12 brani abbastanza ben articolati nonostante la monotonia che proprio che si confà al genere perché tutto il metalcore altrimenti permette a portare alla più vicina di scarica esattamente come la break core a meno che non sia sia da slot a farla che pure lì bisogna vedere i distinguono ci sono dischi e dischi pure lì e testa è tutto fattume altrimenti è solo ritmi che basta insomma sono quei generi per ragazzo un po che alternativo che si sta approcciando a generi più estremi però ecco se si ferma solo là e non va oltre si impantana in una strada un po senza uscita allora qui ci stanno appunto 12 brani contenuti per 45 minuti non troppo miniaturizzati anzi forse quelli miniaturizzati sono quelli migliori come phoenix in flight che sono 42 secondi alla dinamide quella abbastanza funziona bene i testi sempre urlati poi c'è stato qualche rimpasto di formazione rispetto agli inizi concubine pure insomma funziona come apripista e dà bene come biglietto da visita ci sono qualche elementi un po gezzati quindi è suonato anche un po meglio della media cioè si vede che il chitarrista ha voluto immettere non solo cagnare assoluta e velocità ma anche qualche leggera armonia un po più particolare non dico fusion ma comunque tendente a qualche armonia jazz chiaramente fatta da gente che suona un po così così e quindi non aspettatevi poi pure un to the heavenly arms pure non è male hell to pray non è malaccio i testi sono sempre terribili non mi addentro nei testi da pseudo sfigato finto depresso para suicida che poi non si suicida mai anche perché poi loro insomma nel 2001 già erano passati 11 anni che si erano formati qui non erano neanche più tanto pischelli già cominciavano a essere trentenni trentenni passati quindi ormai ce ne hanno 50 e passa ma sono proprio patetici comunque insomma il disco andò abbastanza bene ecco si finisce con i 11 minuti e passa di gondo di gendo che seppur tirata un po troppo per le lunghe perché per un gruppo metalcore fare una suite quasi progressiva è un azzardo però qui insomma hanno mescolato anche un po appunto qualche elemento leggermente progressivo leggermente più orecchiabile un po di metalletto più facile e trova c'è pure una balladina poi la bon jovi insomma diciamo che è un piccolo classico di concentrati stereotipi stereotipi del genere però meglio della media cioè tutto un metalcore che fa cagare questo è l'unico disco che se volete proprio averlo comprate solo questo e tralasciate tutto il resto poi loro firmarono per la tutta la pala epitaph e fecero dei dischi ma secondo me così così poi anche qualcosa fecero anche uno split con i napal death quindi napal death pure svenduti qualcosina per la relapse per uscire qualche singoletto e ancora vi lacchiano perché questo genere qua stranamente è ritornato in auge tra i ragazzini di oggi io non pensavo che questa è roba ormai di 25 anni fa perché 2001 quanti anni si può stare 23 24 fino anni 90 e è ritornato in auge stranamente non so com'è e piace certo a una cerchia un po ristretta non è che stiamo su grandi numeri però c'è stato questo ritorno questi ritorni corsi e ritorni storici ogni tanto capitano ed è capitato con il metalcore che poi adesso si chiama scrimo scrimo lo chiamano scrimo perché questi urlano sempre beh si chiamava pure scrimo all'epoca però adesso loro più che il metalcore tendono lì scrimo per me ripeto questo è l'unico disco che se salva io ecco il set di scaruffi ci potrei pure stare però è un set generoso cioè proprio se salva perché è un po più variegato della media e c'è qualche soluzione armonica un po meglio della media è suonato un po meglio della media ma ecco avete questo disco qui basta non comprate nient'altro non ascoltate nient'altro ma anche in streaming per non ne vale la pena perché voglio dire un disco di 45 minuti ascoltatevi gli autegra ascoltatevi di avanda galas ascoltatevi cloud dead ascoltatevi jpeg mafia ascoltatevi insomma qualsiasi altra cosa che c'è adesso qualche hyper pop interessante c'è ancora tipo d'aria core gen remover ecco gen remover per me è da seguire come artista hyper pop c'è delle belle idee perché che spazia tra l'hiver pop quello proprio un po trap a quello più invece su gaze quindi per se ci siano idee interessanti in gen remover quella è un artista da seguire l'ho già detto e l'ho scritto anche più volte sia su instagram che su youtube per il resto niente insomma non ho nient'altro la dire fermatevi a sto disco e comprate solo sto disco qua tralasciate anche gli orchid perché pure quelli voglio dire boh li sentite benissimo su youtube su o su su spotify fate molto prima non vi perdete niente detto questo sono in attesa di fetus e di spk che a sto punto mi arriveranno martedì prossimo ciao e ci sentiamo presto